E' stato arrestato l'autista del TIR che ieri pomeriggio ha investito e ucciso Lucia Matera, la 57enne insegnante del liceo classico di Pietra De Fusi in provincia di Avellino, travolta mentre stava ringassando a piedi nell'area industriale del piccolo comune della Valle del Calore. L'investimento è avvenuto in un incrocio. L'autotrasportatore, un 51enne residente in provincia di Napoli, è risultato positivo al test antidroga, cui è stato sottoposto per ben due volte all'ospedale di Benevento. Ora è indagato per omicidio stradale, aggravato. Intanto nel pomeriggio a Pietra De Fusi sono arrivati il nipote e la sorella della vittima. La data dei funerali della 57enne non è stata ancora fissata. Si attende che venga eseguita l'autopsia per poter liberare la salma dell'insegnante che si trova presto l'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino. Saranno i familiari nelle prossime ore a decidere se riportare o meno la salma a Forio d'Ischia, paese di origine della donna che da due anni si era trasferita per lavoro nel comune Irpino. La comunità di Pietra De Fusi è addolorata per la morte dell'insegnante 57enne, un dolore al quale si aggiunge la rabbia dopo che le indagini hanno accertato che l'uomo che trasportava l'autotreno non era in condizioni di poter guidare. Grazie.